Allora, vi abbiamo... 1 milione e 600 mila euro. A tanto, ammonta l'imposta evasa da un imprenditore cinese di Sant'Ippolito, nel settore del tessile e abbigliamento, arrestato per associazione a delinquere ieri mattina dalla Guardia di Finanza di Urbino. Casa e bottega, tutto nello stesso posto per Yu Wei Yang, ma tutti noto come Mario, 43 anni, da oltre 20 in Italia e da 10 a Sant'Ippolito, dove, assieme alla moglie e dal fratello, dal 2006 ha praticato un complesso sistema di evasione fiscale, conosciuto come apri e chiudi. Il giochino è semplice. Si apre un'attività individuale, formalmente intestata ad un prestanome, si tiene in piedi per due o tre anni, non si versa una lira nelle casse dello Stato e poi si chiude. Il prestanome sparisce e così si sfugge alla legge. Questo schema di evasione il Mario cinese l'ha praticato per ben sette volte e per il quale, oltre a lui, sono indagate altre dieci persone. La Guardia di Finanza di Urbino, nella casa azienda di Sant'Ippolito, ha messo i sigilli per intanto ai macchinari utilizzati, sequestrato tre auto di grossa cilindrata, oltre a depositi bancari e crediti societari, fino al raggiungimento della somma evasa, un milione e 600 mila euro. Un'operazione scaturita internamente alle fiamme gialle da controlli di banche, dati e verifiche fiscali, che lancia però un segnale ben chiaro a tutti gli imprenditori sani, che con grandi sacrifici portano avanti le loro aziende e lottano contro la concorrenza sleale. Questa è un'azione di contrasto che poniamo in essere al fine di tutelare l'imprenditoria sana, di colpire l'economia illegale e sommersa e porre fine a fenomenologie illecite, come quelle scoperte e bloccate, fermate con questa operazione. Questa è una risposta concreta alle domande, alle attese che gli imprenditori sani ripongono nel nostro lavoro. Quindi con la conclusione di queste indagini abbiamo dato segno di una concreta azione svolta a loro tutela.